Ok questo è il primo giorno, noi abbiamo dormito come avete visto qui, vabbè lasciate stare, ho già fatto i due video per youtube del viaggio e a parte che questa casa è veramente assurda, cioè non potete capire, è bello ovunque, questa è solo la parte sotto ed è una figata pazzesca C'hanno stanze ovunque, tutto enorme, tutto mega bello, questa sarebbe tipo una sorta di zona palestra eccetera Ok oggi mega programma, andiamo a mangiare messicano vero? Si, si chiama la megicana E poi andremo in golf, come si chiama? Golf? Questo posto si chiama Tapo Golf Dove in pratica ti diverti giocando a golf praticamente E dopo il golf questa sera andremo a Moving Tour Ciao Alla guida E ora andremo in Messico Siamo nel classico quartiere americano È stato un patriotismo come sempre Come stavo dicendo stiamo andando a mangiare messicano Con un po' di amici Che conosceremo Poi oggi pomeriggio golf e questa sera andremo al cinema Ciao Si sente proprio un clima natalizio Dietro ci abbiamo Matte Niko ci raggiungerà solo il giorno di Natale Solo E abbiamo 25 minuti di macchina ora E ci vediamo quando saremo Al ristorante Messicara Ok siamo arrivati circa nel town C'è voluto solo un quarto d'ora Nizzi più È veramente stranissimo perché È tutto più grande Molto più grande Le strade più larghe Le case mega distaccate Ognuno che c'ha il suo parcheggio O un paolo grande Centri commerciali che sono enormi Le classiche chiese Stereotipiche Dell'America Di mega van Di mega furgoni Mega camion È assurdo È assurdo È assurdo Fantastico Questa è buona Questa è buona Questa è buona Ok ci sono presi un Caffè ghiacciato Molto buono Scusate non sono riuscito a filmare Il cibo messicano Ho fatto solo alcune foto Però io mi sono solo Di pantaloni Era un bel spettacolo Un loro amico Me l'ha prestato Molto gentilmente Vincenzo 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 No Non sei E ora stiamo andando Al golf Che ci divertiamo Un po' tutti assieme Ok Ok S'è finito il caffè Siamo arrivati Top golf E ora entreremo A giocare golf Ci sono un sacco di piani Bellissimo Adesso vi faccio vedere dentro Ora siamo entrati In un centro commerciale americano E dicono Sia uno dei più piccoli Non lo so È tipo enorme C'è tipo Un sacco di piani Un sacco di negozi Di tutti i tipi E soprattutto Levanti zuccherate Dolci Eccetera eccetera Però è veramente molto bello qua Adesso vediamo se Troviamo qualcosa di carino Oh Brian I was like You know At night time You can sleep in the mall You can sleep It's amazing Wow Per aver comprato un po' di cose che dopo vi mostrerò, siamo al cinema ora, è molto carino, c'è Spider-Man questa sera, c'è un sacco di gente, c'è un odore fortissimo, è veramente strano perché pizza tantissimo, popcorn e altre cose, però vedremo com'è. Siamo al cinema, sdraiati, tutti sdraiati, è la cosa più bella del mondo, bellissimo, siamo un po' troppo vicini ma non è buio, e ci guardiamo Spider-Man. Ok, siamo arrivati a casa, siamo distrutti perché col jetlag è veramente stranissimo, infatti siamo veramente molto stanchi, e niente, andiamo a dormire che domani ci attende una nuova giornata, però è bellissimo, buonanotte.